Non siamo più in città. Siamo in mezzo al nulla. No dai, dove c***o siamo? Ah, questo è l'intro? Sì. Ma noi non abbiamo un'intro. La nostra intro sarà... Ciao amici del cuore! Ciao amichetti! Ok, basta, schifo questa intro. Allora, in questo momento stiamo andando a passo spedito, quasi correndo, perché come al nostro solito arriviamo sempre in ritardo e dobbiamo andare in un posto molto bello. Molto, molto bello! Ma in realtà lo sapete già dove andiamo? Ah, è vero, è nel titolo. Ma siamo scemi. Non è vero, voi non guardate le copertine e i titoli. Ragazzi, ci siamo persi, non sappiamo dove c***o. È vero! Fai schifo come navigatore, sono sicuro. Sì, Davide, è proprio qua, bello. Belli sti trampolini. Bacca boia, mi sto già divertendo. Eccoli i trampolini, guarda qua. È quassù, è quassù, è quassù. Sono qua le scale. Secondo piano. Abbiamo trovato! Finalmente! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Abbiamo due ore qua, quindi ci hanno dato due braccialetti a testa. Vi danno anche delle calze che costano 500 fiorini, quindi un euro e qualcosa, quasi due euro. Tecnicamente non potete portarvele da casa, capito? Dovete comprarle per forza una volta, poi le tenete e se venite ancora potete riusarle. Non è così difficile in teoria chiudere i lucchetti? Cioè, non è così complicato, Fredri... Adesso ti faccio vedere. Voglio provvedere. Fatto. Sì, ma tu usi le hack. Come vedete è pieno di trampolini, è una quantità spropositata. Partiamo da destra. Qui c'è un campo da dodgeball, avete presente il film? Ecco, la stessa roba però dieci volte più figo perché c'è i trampolini! Qui cosa c'è? Qua ci sono degli altri trampolini incredibili, wow. No, davvero, non ci credo. Wow, fuori dal mondo. Eh, bisogna fare così, guarda, guarda. Comunque quello lì è l'unico pirla coi jeans in tutta la palestra. Quello lì non so cosa sia onestamente. Vabbè, mi sembra che sia abbastanza ovvio ora che lo guardo. Devi beccare il colore verde e non quello rosso. Wow. Un gioco incredibile. Qui c'è la versione ungherese di Takeshi's Castle, come vedete. Dietro abbiamo un esemplare di Sexy Man. Allora, in Ungheria, in ogni luogo, deve esserci un Sexy Man. Di solito sono io, ma quest'oggi la mia posizione l'ho ceduta a quell'uomo là. Questa è una fune. L'obiettivo è andarci sopra e non cadere. Cioè, è durato letteralmente due passi, fa schifo. Mi sono scordato della parte più incredibile di tutto. Il basket. No. C'è una cosa che secondo me è la migliore di tutte, ovvero questa. Che è una specie di arena dove puoi farti male, dove i bambini si fanno male. Ed è bellissimo. Adesso io e Frederick faremo una sfida. Non so come si chiami. Questa roba qua. Come vedete l'esemplare di Sexy Man sta continuando a fare il suo lavoro. Devo ammettere che è più bravo di me. Allora, abbiamo finito. È stato figo. Siamo fatti male. No. Incredibile. La porca vacca sta andando. In teoria dovrebbe fare questa roba gialla. Sì. Non siamo più in città. Siamo in mezzo al nulla. Che c***o siamo? Guarda, The Walking Dead. Siamo in The Walking Dead. Cos'è che ha appena detto? Che dobbiamo scendere. Sì. Scendiamo. Che c***o siamo? Orca c***o. No dai, dove c***o siamo? Sono 5 chilometri. Sicuramente alcuni di voi vorranno andare ad un centro commerciale per comprare robe, cose, oggetti, ok? Il posto migliore per farlo è il West End. Questo è questo qua. Per farvi capire quanto è grande sto posto, addirittura le vie dentro, cioè ci sono anche dentro, quello è il nome di una via dentro il centro commerciale, è una cosa fuori dal mondo. Una delle cose migliori che ci sono qua è questa cosa, questo, questo, fanno vedere, mostralo, mostralo. Perché qui vendono i mojito, sia alcolici che analcolici, che sono buoni uguale, a tipo un euro, un'ora e mezzo, neanche due euro, insomma. Quindi al piano terra ci sono tutti i ristoranti, il cibo, là, in giro, e invece lassù c'è il cinema, c'è anche il cinema. Che gusto è? Cocco, marcio, poi succo di arancia, vabbè, limone, lime, ghiaccio, acqua, tipo con le bollicine, non mi ricordo. Adesso voi vi chiederete perché siamo venuti qua, cioè solamente per un mojito partito a questa strada? Ebbene vogliamo vedere se vendono skateboard elettrici perché, perché noi vogliamo uno skateboard elettrico, quelli che fanno... E non lo compreremo oggi, nel caso ci sia, ma intanto siamo venuti a vedere perché eravamo, eravamo di passaggio, vero? Orca t***a! Il problema qui è trovare i negozi perché è davvero immenso sto posto. Ah, ecco, 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 già che ci sono vi faccio vedere una cosa che probabilmente c'è solo qui e se c'è da qualche altra parte l'hanno copiata. È l'unico centro commerciale del pianeta, non so se è così ma, boh, fa più figo, che ha una cascata all'interno. È continua, non si vede dove finisce. Vediamo, in teoria a Mediamark dovrebbe esserci qualcosa. Truveto. Che schifo. Ma perché fa schifo? Non assomiglia minimamente a quello che voglio io. Ok, vi faccio vedere quello che voglio io, eccolo qui, questo lo vedete? È bello, cioè ne vale la pena. No, 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 è assolutamente bocciato quello skateboard elettrico. No, 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 non mi piace. Siete iscritti al canale? Spero di sì. Come abbiamo detto prima, questo posto è gigantesco e ha persino un suo giardino. Cioè, guardate. Siamo sopra un palazzo. Cosa siamo? Sesto piano qua. Sembra tipo una città sopra una città. Cioè, no, a parte di scherzi è guardare così. Ok. Sembra di essere tipo al parco di un paese, no? Ma invece siamo sopra un centro commerciale. Vabbè, ok, non abbiamo trovato lo skateboard, però... Il momento era buono. Il momento era buono, esatto. E comunque, ripeto, se volete comprare qualcosa, venite qua. Perché c'è davvero qualsiasi negozio, voi pensiate, c'è. Ma perché hai ancora una maglietta che non c'entra nulla? No. Dobbiamo rifare l'auto perché pensavamo di rimanere un altro giorno, in realtà torniamo prima. Comunque spero che vi siate divertiti. Vi saluta anche Fred qua dietro, guardate le condizioni incredibili di viaggio. Probabilmente torneremo di nuovo qua a Budapest perché c'è davvero ancora un sacco da vedere. Non siamo riusciti a concentrare tutto quanto perché era davvero troppo. Quindi in caso, nei commenti, diteci anche cosa vorreste che vi mostrassimo. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!